Un lungo ponte, quello del primo maggio, che nella città d'Esassia ha incrementato di molto le visite turistiche. Quattro i giorni da sabato a martedì, un periodo decisamente ampio che ha visto un notevole viavai di gente attraversare la città per ammirarne le sue bellezze, complice anche l'inizio della tanto attesa primavera con temperature oltre i 25 gradi. Alberghi, ristoranti e bed and breakfast hanno registrato il tutto esaurito. La crisi non ha fermato le flotte di turisti giunti da ogni parte della nazione e dall'estero, che si sono riversati nella nostra città per godere non solo degli scenari che ancora conserva gelosamente, ma anche per degustare prodotti tipici e locali che sono ancora il fiore all'occhiello del territorio materano. Rispetto agli scorsi anni, sembra che il fenomeno del mordi e fuggi non sia ancora del tutto stato debellato, ma si lavora affinché questo accada. Abbiamo intervistato albergatori, visitatori e operatori del settore in merito al fenomeno turistico, che è in crescita ma che necessita ancora di modifiche, perché tutto possa essere perfetto nei termini di accoglienza e dei servizi rivolti a coloro che vengono in visita nella città di Matera. Sicuramente c'è stato un notevole afflusso per noi, un'esperienza nuova perché siamo appena partiti, ma abbiamo visto tanta gente, tanta bella gente che si è fermata per tutto questo lungo ponte. Stamattina sono andati via tutti, siamo rimasti soli, speriamo di rivedere i nostri ospiti fra breve, fra qualche giorno sicuramente torneranno. La gente che viene a Matera ormai è interessata a vedere, a scoprire tutto quello che c'è da scoprire a Matera. Si rendono conto che un giorno, due, non bastano più per girare Matera. La richiesta ovviamente è quella di servizi, di maggiore attenzione all'ospite. Noi abbiamo avuto molti romani, qualche pugliese, qualcuno che viene invece dall'estero e che vicino a Puglia fa poi una puntata a Matera. Basilicata, bella scoperta, se ne stanno accorgendo. E' arrivata veramente tanta gente. 2000 persone al giorno. Veniamo a Treviso, ho portato degli amici, io sono nativo di queste zone. Cosa manca a questa città e cosa si potrebbe fare per migliorarla? Intanto questa strada ha proprio senso di circolazione, ma penso che non si possa fare diversamente, se si potesse eliminare. Io sono venuto qui 30 anni fa, adesso ho trovato molto cambiato e sicuramente il meglio. La prima volta in Matera è una bella città perché mi piace che è una città conservata, è differente di altre città che sono più moderne, questa è una città antica e mi piace molto che è antica. Qui bisognerebbe un po' smuovere la Camera di Commercio, l'ufficio li ha detti a questi lavori per creare eventi. Io ho riscontrato da parte di questi visitatori di grande entusiasmo. Abbiamo avuto un buon riscontro per quanto riguarda le strutture museali che la gente ha potuto visitare. Le segnalazioni negative riguardano la mancanza di un po' di servizi, perché molta gente effettivamente avrebbe avuto piacere, visto il caldo e visto il blocco che è stato fatto delle auto qui nei Reni Sassi, se veniva affiancato da un servizio tipo un bus navetta e anche l'apertura di qualche bagno in più, tipo quello di Santa Lucia che non è stato aperto. Puoi notare un aumento di afflusso turistico in quest'ultimo periodo rispetto agli anni passati? Un aumento vero e proprio non l'ho notato, però quando capitano giornate tipo queste dei ponti è molto folcloristico vedere tantissima gente in giro, anche se poi nella maggior parte dei casi i turisti con la T maiuscola in realtà sono la minima parte. Quattro giorni di ponte, però subito dopo il deserto e il silenzio totale. Cosa si potrebbe fare per migliorare questa condizione? Ci manca ancora tutt'oggi un vero e proprio coordinamento che mette insieme le guide, le strutture, i servizi, anche i taxi. Quindi potrebbe essere di stimolo cercare di creare un tavolo che possa mettere insieme tutti gli operatori per offrire anche un'unica carta servizi. Tu pensi che con la tassa di soggiorno adesso le cose possano migliorare o non si può che degenerare? È una sperimentazione che andrebbe fatta, però come tutte le medaglie presenta due facce. Bisogna vedere poi realmente se la gente riesce a percepire che con questa tassa possa essere migliorato un servizio riguardo l'accoglienza, i punti informativi, la pulizia e anche a livello di trasporti che a quanto pare ci sono delle forti deficienze tutt'oggi. Qual è stato l'oggetto che hai venduto maggiormente? Il tipico, il cucù. Perfetto. Perfetto. Grazie. 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 Grazie.